Un decalogo per la creatività di Federico Faggin La creatività è nella mente, nelle emozioni e nelle azioni coraggiose. La creatività non è esclusivamente un prodotto della mente, anche se sembra nascere nella mente. Essa è un prodotto congiunto dell'amore, del coraggio e della determinazione necessaria al compimento dell'idea. Un'invenzione, un quadro, un pezzo di musica, una poesia o un libro devono prima essere completati per avere un impatto sul mondo. La creatività è un regalo che facciamo a noi stessi e al mondo. La creatività è un regalo che facciamo a noi stessi e al mondo.